Gli italiani o gli immigrati regolari che stanno in fila da anni per attendere una casa popolare, magari sono disoccupati, anziani o sono donne incinte, sono più scemi di quelli che occupano? Tu occupi e io ti butto fuori in un quarto d'ora, perché tu stai rubando un diritto a qualcuno che ha più diritto di te. Punto a capo. E non voglio i centri sociali, i sindacati, i buonisti di sinistra che dicono poverini. No, perché se prima avete... Bravo!